Muro, bel attacco. 205 centimetri per i suoi 18 anni, già gran palla questa. Gran pipe di De Cecco con quanto rena, tira tutto a fuoco, Mimira molto molto generoso, si mette lì, però... E ogni tanto rimanendo lì senza girarsi, cioè provi a tenerla, è chiaro che se ti arriva in faccia è dura, però se magari te la tira...